Torna alla Mostra d'Oltremare dopo tre anni di stop, giochi senza barriere, la sedicesima edizione dell'evento inclusivo sulla disabilità dedicato a bambini e ragazzi. Ideata e organizzata dall'associazione Tutti a Scuola, la manifestazione ad ingresso gratuito si svolgerà sabato 3 giugno per l'intera giornata alla Mostra d'Oltremare. Avevamo un gran bisogno di ritornare a pensare che fosse possibile abbracciarsi, correre, anche sorridere e qualche volta commuoversi. È quello che noi faremo sabato 3 giugno insieme a probabilmente migliaia di bambini, di famiglie, le bambini e le famiglie più fragili di questo territorio. Giochi senza barriere è un momento di gioco ma è anche un momento per ricordare tutte le mancanze che le amministrazioni ma le istituzioni hanno rispetto alla disabilità e all'inclusione delle persone disabili. Sono previsti momenti musicali, di spettacolo, di sport e di animazione e tanti laboratori in collaborazione con le associazioni che si occupano di fragilità e disabilità. Negli spazi della Mostra sarà allestito un palco dove si alterneranno gli artisti, da Clementino ad Andrea Sannino, Leo Gasman, Salda Vinci, Mr. Hyde e un villaggio dello sport offrirà la possibilità di praticare diverse attività. Un'iniziativa molto importante che è una lunga tradizione e che con piacere sosteniamo. C'è la necessità di un approccio che guardi a questo non come un problema ma come una grande opportunità. Spesso in tutti gli interventi che sono stati fatti non sempre c'è stata quell'attenzione alle persone che hanno dei bisogni speciali e quindi è opportuno che ci sia una visione integrata, anche la scelta di avere un garante per la disabilità va in questa direzione. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune e grazie all'azienda ospedaliera Cardarelli sarà possibile usufruire di consulenze mediche gratuite. Ci abbiamo a fianco quest'anno degli amici come l'Asda Napoli Centro che ha allestito una vera e propria struttura ospedaliera e viva Giochi Senza Barriere.